Ciao, sono Enrico del Frantoio il Cassone a Vada e ti comunico che lunedì 5 ottobre apriremo le porte alla frangitura. Per cui se sei un produttore che oltre a fare l'olio hai la necessità di certificare l'estrazione a freddo, oppure sei un produttore di olio biologico, se hai la necessità di confezionare il tuo olio in un locale autorizzato o semplicemente farti ritirare le olive dal camion e pagare la frangitura con la molenda, se hai l'interesse a sviluppare, a portare avanti il sistema di rintracciabilità dell'olio IGP toscano e adempere a quelli che sono i nuovi registri telematici, siamo pronti a riceverti e a servirti al meglio. Oltre a questo ci sono due cose che ti serve di sapere sui macchinari del frantoio. La prima è che utilizziamo un frangitore a dischi che non surriscalda la pasta, bensì la surriscalda solo un grado e mezzo, a differenza di altri frangitori che invece arrivano a surriscaldarla fino ad 8 gradi e il tipo di di molitura è molto delicata. La seconda cosa che ti serve di sapere è che noi utilizziamo un sistema a tre fasi, ossia separiamo acqua, olio e nocciolo attraverso l'utilizzo di due centrifughe. Questo significa per te un perfetto controllo della resa e una minore ossidazione, oltre al fatto di fare un olio meno amaro. Non che l'amaro sia un'accezione negativa, anzi tutt'altro, ma noi preferiamo i gusti molto più equilibrati, per cui un olio buono per te, la tua famiglia, i tuoi clienti, per un'alimentazione sana e gustosa al punto giusto. Ci siamo, ti auguro una nuova campagna olearia splendida, ti aspetto in frantoio, ciao!